Scomparso da 72 ore, estese le ricerche. Da tre giorni non si hanno notizie di Salvatore Scollo, il sedicenne che sembra essersi volatilizzato da domenica pomeriggio. Ieri le ricerche hanno impegnato una trentina di unità provenienti anche da Vittoria, ma non ci sono riscontri. Guarita è di nuovo positiva al Covid. Nessun allarme secondo positivo a Gela in 72 ore dopo il caso del paziente proveniente dal nord e risultato affetto da Covid al tampone seguito dopo la quarantena. Stavolta si tratta di una paziente che era stata definita guarita dall'aspe e dopo alcuni giorni si è ripositivizzata. Una vicenda che ha destato parecchia preoccupazione tra i cittadini, soprattutto adesso che inevitabilmente le precauzioni si stanno allentando in vista della fase 3. Nessun allarme rassicura però la responsabile del reparto di malattie infettive Emanuela Pace. Le ripositivizzazioni sono eventi naturali nei cicli virali che non devono destare eccessiva preoccupazione. Coltellata al suocero, arrestato un operaio gelese, lo avrebbe affrontato e poi accoltellato in strada a Mestra. I carabinieri hanno arrestato il 36enne, Giacomo Ascia, accusato di aver colpito il suocero 47enne. Tra i due i rapporti pare fossero molto tesi. Il ferito non avrebbe accettato la relazione che l'operaio intratteneva con la figlia. Fase 3. Sicilia, mobilità tra regioni, stop alla quarantena. Via libera da oggi alla mobilità tra regioni, stop alla quarantena anche in Sicilia. Lo stabiliscono un decreto ministeriale e un'ordinanza del presidente della regione siciliana. Con la sua ordinanza Musumeci ha confermato l'apertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno. Ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate, ma soprattutto a posto fino alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in Sicilia a partire da oggi. Permane comunque la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza e di sintomi riconducibili a Covid-19. Acqua a viviere, agricoltori, non siamo criminali. I responsabili della riviera viviere hanno deciso di bloccare qualsiasi prelievo di acqua dal lago ritenuto a forte rischio di prosciugamento. Gli agricoltori della zona però invocano l'intervento del sindaco e dell'assessore al ramo. Senza acqua dal viviere, questi mesi estivi rischiano di trasformarsi in un calvario per le loro attività. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come abbiamo sentito dai titoli, da tre giorni non si hanno notizie di Salvatore Scollo, il sedicenne che sembra essersi volatilizzato da domenica a pomeriggio. Ieri le ricerche hanno impegnato una trentina di unità provenienti anche da Vittoria, ma non ci sono riscontri. Da ieri pomeriggio anche semplici cittadini si sono unite i volontari della Procivis, della Croce Rossa e degli agenti del commissariato per le ricerche di Salvatore Scollo, il sedicenne scomparso da casa domenica scorsa. Sono momenti di apprezzione per i familiari. Salvatore è uscito di casa domenica pomeriggio e da quel momento ha fatto perdere ogni traccia e notizia. Alle 17 un gruppo di volontari si è radunato presso la sede della protezione civile per avviare una ricerca ancora più approfondita nella speranza di trovarlo. 5 le squadre impegnate con 20 unità formate da volontari gelesi e due squadre di Vittoria con 9 altre unità. Il perimetro urbano è stato setacciato in un lungo e in largo. Dalla zona balneare di Manfria fino ai confini di Marina di Acate e nelle campagne circostanti. I mezzi e le associazioni di volontariato hanno perlustrato anche le aree rurali senza successo. Alle 21 le ricerche anche per il buio che è sopraggiunto sono state sospese. La polizia ha diramato le foto di Salvatore Scollo e alle altre forze dell'ordine. Più ore trascorrono più aumenta l'apprezzione da parte dei familiari. L'ipotesi dell'allontanamento volontario è quella che i congiunti sperano possa trovare conferme. Sono trascorse 72 ore dal momento in cui Scollo ha fatto perdere ogni traccia. Chiunque avesse visto Salvatore è pregato di mettersi immediatamente in contatto con la sala radio della Polizia di Stato al numero 0933 816 211. Dopo il soccorso effettuato dai militari della Capitaneria di Porto di Gela è stato trasferito all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo a Licata. Un marittimo 64enne ieri è stato vittima di un incidente mentre si trovava a bordo di una petroliera in transito nel canale di Sicilia a largo di Licata. In porto a Licata ad attenderlo c'era personale medico. Si tratta di un cittadino inglese che fa parte dell'equipaggio della petroliera. Secondo positivo a Gela in 72 ore dopo il caso del paziente proveniente dal nord è risultato affetto da Covid al tampone eseguito dopo la quarantena. Stavolta si tratta di una paziente che era stata definita guarita dall'aspe e dopo alcuni giorni si è ripositivizzata. Una vicenda che ha destato parecchia preoccupazione tra i cittadini soprattutto adesso che inevitabilmente le precauzioni si stanno allentando in vista della fase 3. Nessun allarme rassicura però la responsabile del reparto di malattie infettive Emanuela Pace. Le ripositivizzazioni sono eventi naturali nei cicli virali che non devono destare eccessiva preoccupazione. Era stata dimessa perché è risultata guarita. Ora una donna è stata nuovamente ricoverata in malattia infettiva al Vittorio Emanuele. È stata riscontrata della febbre e dal tampone è emersa la nuova positività. È di nuovo ricoverata nell'ospedale di Caposoprano ripositivizzata. Così spiegano dall'asp. Si tratta di una donna di circa 70 anni già passata dalla terapia intensiva e poi guarita. È il terzo caso in pochi giorni se si considera anche la pensionata niscemese che è stata trasferita recentemente al Vittorio Emanuele. Una vicenda che ha destato parecchia preoccupazione tra i cittadini, soprattutto adesso che inevitabilmente le precauzioni si stanno allentando in vista della fase 3. Prova però a placare le preoccupazioni la responsabile del reparto di malattie infettive del Vittorio Emanuele, Emanuela Pace, che al momento ha in cura la paziente. Nessuna preoccupazione, dice, le ripositivizzazioni sono eventi consueti nella vita del virus, per cui va bene mantenere le precauzioni ma senza allarmarsi più di tanto. Il tampone ha dato un esito positivo, ma questo non significa che la signora ha una malattia da Covid. Nell'ambito di alcuni pazienti questi virus possono avere delle fluttuazioni virologiche che non corrispondono al sintomo, ma è solo una fluttuazione virologica. In fondo il tampone è un esame che viene fatto con un'amplificazione del DNA, quindi noi andiamo a amplificare quello che c'è del virus, quel pochissimo che rimane del virus, noi lo andiamo a amplificare, ecco perché abbiamo trovato la positività. Quindi è possibile in alcuni soggetti. La signora non si è riammalata, non è stata ricondaggiata da nessuno. Sono cose che purtroppo possono capitare. Sta bene intanto anche la 96enne Nisce Mese che sabato è stata ricoverata al reparto Covid dell'ospedale Gelese. Anche lei è asintomatica e sotto osservazione. Per lei sono iniziate tutte le indagini epidemiologiche per risalire ad eventuali contatti. Noi abbiamo questa signora, proprio quasi centenaria, che sta benissimo devo dire, lucida, orientata, perfettamente, che giunge al pronto soccorso per altre patologie che non sono proprio completamente correlabili con il coronavirus. Però anche lei, giungendo a un pronto soccorso, deve fare per forza la procedura. Abbiamo fatto il tampone e anche lì abbiamo trovato questa positività che non ci siamo riusciti a spiegare, che la signora è asintomatica totalmente. Ma poi una signora di 96 anni che chiaramente non va in giro, non ha ricevuto, eccetto il figlio delle persone a casa, non ha ricevuto visite. Ora, chiaramente la signora è di un altro paese, non è del nostro territorio, stanno facendo delle indagini epidemiologiche, quindi vedremo cosa spunta. Certo, qualcuno avrà contagiato involontariamente la signora. Nel frattempo, in attesa delle modifiche all'obbligo della quarantena, continua lo screening dei tamponi per tutti quelli che sono arrivati in regione prima di giorno 3. Fino ad oggi stiamo ancora facendo i tamponi di tutti i pazienti precedenti. Per tutti coloro che sono giunti nella nostra regione prima di giorno 3, loro hanno necessità di fare la quarantena e tampone. È normale che noi dovremmo riconvivere con questo virus, non possiamo bloccare tutto, cioè si capisce. Però bisogna sempre pensare che è in circolazione. Il pericolo è molto concreto. La crisi di un territorio, già destabilizzato dal bisogno economico, rischia di trascinare tanti tra le mani degli usurai. Con gli istituti di credito che non assicurano flessibilità e senza altre fonti, i piccoli imprenditori esercenti e i lavoratori di diversi settori sono sempre più in difficoltà. L'associazione anti-racket Gaetano Giordano, presieduta da Renzo Caponetti, aderisce all'iniziativa dello sportello di solidarietà lanciata dalla FAI nazionale. Mercoledì verrà presentata nella sede locale dell'anti-racket in centro storico. In questo periodo di grande difficoltà economica conseguente all'emergenza Covid-19, ci aspettiamo che la mancanza di liquidità e l'incertezza per il futuro determinino in particolare un acquirsi di fenomeni di usura con tutte le gravi conseguenze, non solo per le vittime ma anche per lo stesso sistema economico del Paese. Si legge in una nota, ad una situazione straordinaria bisogna rispondere in maniera attrettanto straordinaria. Per cui la federazione anti-racket italiana vuole con questo strumento essere ancora più incisiva e veloce nel dare la possibilità di farsi aiutare. Basterà telefonare allo 0815519555 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica segreteria-anti-racket.it per chiedere di organizzare una videochiamata di primo contatto con i nostri esperti eliminando problemi di tempi e costi di spostamento. Cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. Lo avrebbe affrontato e poi accoltellato in strada a Mestre. I carabinieri hanno arrestato il 36enne Giacomo Ascia, accusato di aver colpito il suocero 47enne. Tra i due i rapporti pare fossero molto tesi. Il ferito non avrebbe accettato la relazione che l'operaio intratteneva con la figlia. Sentiamo. Lo avrebbe accoltellato in strada a Mestre. Un 36enne gelese Giacomo Ascia è stato arrestato dai carabinieri ed è stato trasferito in carcere. Da quanto emerso avrebbe colpito il suocero 47enne. Ne pare che tra i due i rapporti fossero molto tesi. Il ferito si sarebbe opposto alla relazione che l'operaio aveva avuto con la figlia. L'aggressione si sarebbe verificata forse perché il gelese aveva deciso di ritornare in Sicilia ma insieme alla figlia del 47enne. L'uomo non avrebbe mai acconsentito alla relazione. L'aggressione si sarebbe verificata intorno alle 13 di lunedì. Il ferito è stato trasferito all'ospedale dell'Angelo e in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Così hanno riferito i carabinieri che stanno svolgendo le attività di indagine. È stato sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico. Sono stati proprio i militari a bloccare Ascia, trasferirlo in caserma e poi in carcere. Oggi verrà sentito da PMGip e difeso dall'avvocato Rocco Cutini e dovrà dare le proprie spiegazioni rispetto a quanto accaduto. Un'aggressione che secondo gli investigatori poteva avere conseguenze anche peggiori. Ieri mattina a Caltanissette in piazza Giuseppe Garibaldi come in altre 100 piazze d'Italia Fratelli d'Italia tra bandiere tricolori striscioni in piena sicurezza con l'uso dei dispositivi di protezione nel rispetto delle distanze previste ha voluto rappresentare il dissenso nei confronti dell'operato del governo Conte. Vogliamo dare voce ai milioni di italiani dimenticati dall'esecutivo giallorosso hanno detto gli esponenti del partito. Un flash mob organizzato in concomitanza con le celebrazioni della festa della Repubblica. In piazza c'erano esponenti gelessi del partito il consigliere comunale Sandra Bennici, Elio Romano, Gaetano Cammalleri e il coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco. Fase 3 Sicilia, mobilità tra regioni e stop alla quarantena. Via libera da oggi alla mobilità tra regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia lo stabiliscono un decreto ministeriale e un'ordinanza del Presidente della regione siciliana. Con la sua ordinanza Musumeci ha confermato l'apertura della stagione balneare a partire dal 6 giugno. Ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate ma soprattutto a posto fine alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in Sicilia a partire da oggi. Permane comunque la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Sentiamo. Sono trascorsi quasi tre mesi dall'inizio del lockdown e parte oggi una nuova fase la cosiddetta fase 3, quella che consente la libera circolazione in tutta Italia senza condizione e con i cittadini dell'area Schengen e della Gran Bretagna che possono venire nel nostro paese senza obbligo di quarantena e senza altre restrizioni che non siano quelle in vigore per tutti. Divieto di assembramento, mantenimento della distanza interpersonale e uso della mascherina nei luoghi chiusi. Via libera le mobilità tra regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia. Lo stabiliscono un decreto ministeriale e un'ordinanza del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Il Ministro per le Infrastrutture ed intesa col Ministro per la Salute ha provveduto a regolamentare la mobilità su tutto il territorio nazionale e i controlli sanitari nei porti e negli aeroporti. Con la sua ordinanza Musumeci ha confermato l'apertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno. Ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate ma soprattutto ha posto fine alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in Sicilia a partire da oggi per i quali comunque permarrà la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Sono alcune delle misure più importanti contenute nell'ordinanza del Governatore della Sicilia che di fatto allenta in maniera significativa le restrizioni previste per contenere il coronavirus senza tralasciare l'importanza dei controlli e della registrazione sui portali dedicati per tutti coloro che fanno rientro nell'isola. In Sicilia quindi il Via Libera agli spostamenti infra e interregionali si accompagna a precise regole che saranno contenute nel progetto Sicilia Sicura presentato oggi a Palazzo d'Orleanda al Presidente Musumeci con Guido Bertolaso e alla presenza degli assessori Maglio Messina, Ruggero Razza e Mimmo Turano. L'ordinanza inoltre contiene novità per chi lavora in Sicilia e deve muoversi sul territorio nazionale e viceversa. Anche se non è più obbligatoria la quarantena restano alti controlli da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP territoriali. Fra le novità anche il Via Libera, piscine e strutture termali che era con i cosiddetti livelli essenziali di assistenza. Consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole per il conseguimento delle patenti nautiche, confermato anche il riavvio dell'attività di catering a partire dal prossimo 8 giugno. Ovviamente permangono gli obblighi di osservanza delle misure di contenimento del contagio, come ad esempio la disponibilità della mascherina che ogni cittadino dovrà tenere sempre con sé e usare quando viene meno il distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda i centri commerciali e supermercati, l'apertura nei giorni festivi sarà regolamentata entro sabato 6 giugno in base alle indicazioni che le organizzazioni datoriali e sindacati già attivati forniranno al Dipartimento regionale delle attività produttive. Fase 3 dunque non significa normalità e questo è fondamentale sottolinearlo. Si tratta piuttosto di una fase più complessa in cui sono fondamentali, forse più di prima, i comportamenti e il senso di responsabilità degli italiani. I responsabili della riserva Biviere hanno deciso di bloccare qualsiasi prelievo di acqua dal lago ritenuto a forte rischio di prosciugamento. Gli agricoltori della zona invocano l'intervento del sindaco e dell'assessore Arramo. Senza acqua dal Biviere questi mesi estivi rischiano di trasformarsi in un calvario per le loro attività. Sentiamo. Non siamo criminali, sono gli agricoltori della zona di Contrada Bulala, nei pressi del lago Biviere, a chiedere di poter utilizzare l'acqua per portare avanti le loro attività. Diversi imprenditori agricoli che operano nella zona hanno chiesto un incontro al sindaco Lucio Greco e all'assessore Christian Malluzzo, un passo mosso dopo la decisione dei responsabili della riserva Biviere che hanno emesso un nuovo provvedimento con il quale vietano al consorzio di bonifica di attingere acqua dal lago per poi distribuirla alle aziende del territorio. Uno degli agricoltori, Luigi Termine, spiega che gli agricoltori vogliono essere messi soltanto nelle condizioni di lavorare. Ribadisce che per l'acqua ricevuta pagano attraverso i bollettini versati direttamente al consorzio di bonifica. L'acqua del Biviere non la rubiamo, spiega Termine. Gli agricoltori infatti fanno regolare stanza al consorzio di bonifica ma solo quando l'autonomia non consente di irrigare ed effettuare operazioni fondamentali. Quindi accade soprattutto nei periodi in cui le temperature sono molto elevati. Nessuno fa abuso dell'acqua del Biviere, ripetono, gli operatori del consorzio fanno sopralluoghi e autorizzano poi il prelievo dell'acqua. Quindi secondo gli agricoltori non ci sarebbe alcun rischio per i livelli del lago Biviere. Emilio Giudice, direttore della riserva orientata, dopo il provvedimento dello scorso anno di recente ha firmato un nuovo divieto che impedisce di attingere acqua dal lago. Dalla riserva orientata temono che si possa profilare un disastro ambientale con i livelli dell'acqua a forte rischio soprattutto durante i mesi più caldi. Gli agricoltori però ribadiscono la necessità di poter disporre dell'acqua in quantitativi comunque molto limitati e senza mettere in pericolo i livelli del lago Biviere. Tutti aspetti che probabilmente riferiranno al sindaco e all'assessore la riunione a Palazzo di Città è stata proprio richiesta dagli agricoltori locali molti di loro piccoli imprenditori che operano nel settore e potrebbe tenersi proprio per andare incontro a queste richieste. La politica di certo sarà chiamata ad intervenire in una vicenda che per anni ha quasi del tutto ignorato. Un esposto alla procura di Palermo tira in ballo il consigliere di maggioranza Romina Morselli eletta nella lista del sindaco Lucio Greco. A rivolgersi a PM palermitani è stata l'esponente nissena del PD Annalisa Petitto rimasta fuori dall'assise civica nissena che ha seguito la stessa trafila della candidata Sara Cavallo. Adesso esponente di Fratelli d'Italia ma rimasta fuori da Palazzo di Città a vantaggio della Morselli. La Dern Petitto nell'esposto addirittura lancia il sospetto che l'assessore regionale alla funzione pubblica Bernadette Grasso e il direttore generale delle autonomie locali Margherita Rizza abbiano agito per favorire la permanenza in consiglio della vicepresidente della commissione Bilancio Morselli. Tra Palermo, Caltanissetta e Gela si gioca una partita intricata che pesa adesso anche sulle sorti politiche dell'Aggiunta Greco. Nell'esposto si ipotizzano reati di abuso d'ufficio e falso finalizzate a favorire Morselli e addebitate a Grasso e Rizza. A IPM palermitane si è rivolta un esponente di punta del PD provinciale. Lo stesso partito in città sta trattando la permanenza nella maggioranza del consigliere Morselli. Morselli che tra i consiglieri di riferimento del sindaco chiama in causa direttamente il suo ex partito guidato a livello territoriale dall'ormai segretario provinciale Peppe Di Cristina da giorni in trigea dopo che l'assessore di riferimento Grazia Robilat ha presentato le dimissioni. L'attenzione alle stelle, il caso del seggio in consiglio comunale adesso potrebbe pesare su una trattativa politica che il PD nonostante i venti di guerra vorrebbe comunque concludere con la permanenza nella maggioranza di Greco. Il dirigente dell'associazione di volontariato gelese che da decenni è impegnata nella promozione della donazione di sangue entra a far parte dei vertici nazionali della federazione donatori un riconoscimento che dice lo stesso Emanuele è frutto del gran lavoro di tutto il team della FIDAS locale. Sentiamo. Enzo Emanuele entra a far parte del consiglio direttivo nazionale della FIDAS. Il presidente della FIDAS GELA ha ricevuto il prestigioso incarico al termine delle elezioni che si sono svolte sabato in modalità e-voting e al termine dei lavori assembleari svolti sempre in videoconferenza a cui hanno preso parte tutte le federate d'Italia. Il dirigente dell'associazione di volontariato gelese che da decenni è impegnata nella promozione della donazione del sangue è stato letto nella circoscrizione centro-sud e isole e per i prossimi quattro anni sarà a fianco del nuovo eletto presidente nazionale Giovanni Musso che succede al compianto Aldo Zino Caligaris, prematuramente scomparso. Al suo secondo mandato alla guida della FIDAS GELA Enzo Emanuele ha accettato di candidarsi alla carica di consigliere grazie al supporto di gran parte delle federate del Meridione che negli anni hanno apprezzato le sue qualità dirigenziali. Un riconoscimento che dice lo stesso Emanuele è frutto del gran lavoro di tutto il team della FIDAS locale. Un riconoscimento, come hai detto tu, che va adotto alla FIDAS GELA quindi al gruppo dei responsabili associativi, alla segreteria, ai volontari sia senior che junior, devo dire, comunque il gruppo giovani che si è formato da qualche tempo e che sta già lavorando in modo davvero efficiente. È un riconoscimento che comunque ci porta a crescere ancora di più attraverso quelle che sono le esperienze che si possono maturare in campo nazionale perché essere seduti al tavolo con persone che poi a un certo punto hanno delle professionalità indiscutibili è senza dubbio una forma di crescita perché comunque mi troverò lì ad avere tra l'altro anche un mandato quindi in campo nazionale, ma quindi avere a che fare anche con delle persone che ti possono insegnare tanto. Emanuele parla anche del periodo difficile che l'unità di raccolta ha vissuto in questi mesi di emergenza Covid un periodo che fortunatamente sembra ormai alle spalle. Abbiamo avuto un momento momentaccio, guarda, il momento forse più buio dell'ADAS prima e della FIDAS GELA dopo quando abbiamo dovuto registrare zero donazioni per ben due volte dopodiché ci siamo messi al lavoro abbiamo cercato un po' di sensibilizzare le persone far capire loro che ad ogni modo donare sangue non rappresentava alcun rischio per la loro salute e soprattutto avrebbero trovato un ambiente rispondente a quelle che sono le norme vigenti del decreto ministeriale pian piano le persone hanno capito e anzi devo dire che sono stati in tanti poi a contattarci attraverso tutti i nostri canali dai social Instagram, Facebook al telefono proprio per mettersi a disposizione perché hanno capito quanto fosse importante donare sangue soprattutto in un momento difficile come quello che abbiamo appena vissuto e che devo dire tra l'altro stiamo ancora vivendo perché comunque l'emergenza non è finita. Ed il neodirigente nazionale punta l'attenzione anche sull'importanza del plasma nella lotta al Covid una scelta clinica che in gran parte d'Italia sta dando grandi frutti. In un ospedale di Cremona hanno effettuato 19 cure su 19 pazienti affetti da Covid ben 18 sono guariti quindi guariti anche in tempi molto brevi. Sta storgendo adesso un po' di confusione perché il fatto stesso che una persona positiva possa contrarre nuovamente la malattia magari fa pensare che gli anticorpi che comunque sono stati poi si sono poi chiaramente fatti strada nel corpo della persona evidentemente magari non sono così forti ma devo dire che gli studi medici e soprattutto la clinica e quindi quelli che sono secondo me numeri incontrovertibili dicono che attraverso il plasma si può guarire. Lunedì la società Impianti SRR ha preso ufficialmente in mano la gestione dell'impianto TMB di Timpazzo subentra al lato CL2. Dalla regione arriva però un provvedimento molto netto vengono autorizzati 22 comuni che potranno conferire attraverso il TMB ma tutti gli enti del territorio sono diffidati ad aumentare la percentuale di differenziata compreso il comune di Gela. Sentiamo. Gli impianti del ciclo rifiuti sono passati ufficialmente nella gestione della società Impianti SRR controllata per intero dalla SRR4 e guidata dall'ingegnere palermitano Giovanna Piccone. Lunedì mattina a Timpazzo c'è stato l'ingresso del nuovo corso. L'ingegnere scelto dai vertici della SRR ha condotto la fase di transizione che l'ha portata a raccogliere il testimone dal lato CL2 liquidazione che fino ad oggi ha portato avanti l'intero sistema dell'impiantistica e della gestione rifiuti sul territorio. Piccone si è affidata all'ingegnere Salvatore Parlatore il nuovo responsabile tecnico della TMB che ha una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica rifiuti per un breve periodo è stato anche assessore della giunta comunale grillina di Bagheria. Lunedì mattina a Timpazzo c'era anche il presidente della SRR il sindaco di Riesi Salvatore Chiantia. Sono attualmente 22 i comuni autorizzati dalla regione a conferire attraverso il TMB di Timpazzo. L'ingegnere Piccone non a caso ha parlato della possibilità che Palermo decida di aumentare la capacità di abbancamento del sito di Timpazzo. Giornalmente si prevede che il TMB tratti 166 tonnellate di rifiuti. Allo stesso tempo la regione ha diffidato tutti i comuni che conferiranno nel TMB compreso quello di Gela. Devono ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato incrementando la raccolta differenziata fino alla percentuale del 65% si legge in un provvedimento rilasciato al Dipartimento Acqua e Rifiuti. I comuni inadempienti saranno responsabili per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata. Il messaggio è piuttosto chiaro e vale anche per l'amministrazione comunale che in questi giorni si trova ad affrontare il noto dell'assessorato all'ambiente fino ad ora tra le deleghe dell'ADEM grazie a Robby Latte che però ha presentato le proprie dimissioni alla segreteria del partito. E tutto il nostro telegiornale termina qui per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito. Grazie a tutti.